Zona San Siro si sta muovendo qualcosa, è il secondo brano che esce su YouTube, così, senza preavviso, questa volta a scomodarsi è diciamo la punta di diamante, Rondo da Sosa, che io per carità magari critico tutto il diritto di farlo, stiamo parlando di uno che sta guadagnando veramente mezzo milione, un milione all'anno e non sa neanche coniugare il verbo avere, però a fatti concreti è un personaggio che è perfetto per le sue generazioni e mi devo anche ingoiare il rospo per dirlo, però è difficile non vedere questo video, Show No Love, dimostro il non amore, viene mostrato diciamo l'odio, la mancanza dell'amore forse, E' difficile diciamo non vedere che Rondo da Sosa con il successo che ha, il seguito che ha, un video così, in cui comunque cerca di offrire un flow più raffinato, perlomeno all'inizio, e comunque il classico video che la sua fanbase lo guarda e dice minchia che bomba, spacca, si prenderà tutto un'altra volta, e ci sta, ci sta di brutto, secondo me questo personaggio difficilmente cadrà, crollerà, Insomma ho preso un attimo alcuni aspetti di questo brano, vogliono farmi passare come un meme, interessante come visione, perché a fatti concreti lui è uno di quelli che ha quel successo un po' a metà, C'è tanta gente che ti supporta, ti stima, ma è tantissima anche la mole che ti conosce, sei popolare, però diciamo che ti usa come un meme, ti prende come meme, E spesso e volentieri, anche se gli odiatori, diciamo che sono di meno, perché al di là che sono tanti, sono pochi, comunque tu percepisci un sacco di soldi, comunque l'amore è grande, la popolarità è grande, però ci si concentra su quelli, E quindi lui ti dice, un anno sono maturato, ho preso l'inculatura dopo il primo contratto, e questo è un aspetto fondamentale per gli artistici, tengo a dirlo, qualunque artista, che oggi non è che le etichette investono sull'artista, oggi le etichette sfruttano l'artista che sta andando forte, E quindi di conseguenza il primo contratto, che sia con major o sia, o peggio ancora, con l'etichetta indipendente che muore di fame, è sempre un'inculatura, e lui l'ha presa, a posto, abbiamo fatto arricchire qualcuno col mio nome, Poi dice, ho sbagliato, ci sono ricascato, normale, a 18 anni, 18-19 anni, gli errori che fai poi li rifai, si ripercuotono su di te, soprattutto con quella molle di successo, Quando comunque tutto ciò che dice è giusto, è l'approvazione popolare per lo più, e quindi di conseguenza a 18 anni come fai a sopportare tutto questo? Giusto, si accaniscono, non capiscono che non serva a niente, guarda sono ancora in piedi, fondamentalmente è questa che dice la prima, l'overture del pezzo, Poi c'è questa parte in autotune fastidiosissima, che però rientra nel suo mood, e infatti l'odio succede quando ce la stai facendo, fondamentalmente, Uno sbaglio mi farà cadere, questo è quello che vogliono gli altri, fondamentalmente questo autotune fastidioso, Però sta parlando del suo fastidio, quindi io non credo che lui l'abbia fatto consciamente, però è questo il concetto, Queste generazioni ci arrivano, sanno di non sapere, non sanno, ma fanno, e quindi lui in questo modo fastidioso ti fa capire il suo fastidio, Poi c'è l'ultimo cambio di flow, e fondamentalmente si racconta, come è prima, mostrando però la sfumatura della rabbia, E poi esce fuori la verità, da dove deriva, diciamo, l'insoddisfazione generale, nonostante tutto questo? Il fuoco che lo spinge ancora a esprimersi? Dagli hater? No, dal fatto che dice, io una famiglia non l'ho mai avuta, E questo è, che porta i ragazzi a rivedersi lui, perché ogni sua azione, ogni suo sottotesto, Parla di questo, del fatto che una famiglia non l'ha avuta, e anche chi ha avuto una famiglia in quella generazione magari non ha percepito bene l'amore, E quindi comunque lui è portavoce di un mondo, no love, e infatti show no love.